Piantato nella casa del Signore, negli altri del mio Dio, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, sono sei anni, dal 250 d.C. al 356 d.C., sei andando lì, sei andando lì, nel deserto, e pensava di passare la vita così, lui e Dio basta. Tutto è crescita, non basta la felicità del mondo. Se c'è tutto il resto, non c'è Dio, non si è felice. Allora, di quest'uomo che viveva una ora, sì, perché doveva porbere, del deserto, subito, alcune persone si accorsero, in modo particolare il suo vescovo, quell'uomo e quella donna, marito e moglie, che in macchina, e c'è, io lo so, nessun'altra parte, la discesa dello Spirito Santo, un fuoco che si divise da te, l'inve di fuoco che si posa. Dio Padre Onnipotente, tu in principio hai creato la luce, hai acceso nell'uomo, fatto a tua immagine, la scintilla del tuo amore. Noi abbiamo più bisogno della legna, della benizione, e quindi la dono di tutto a voi. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.